ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale allora finalmente è stato introdotto il nuovo aggiornamento ragazzi non si può ancora utilizzare perché come vedete c'è una costruzione in corso quindi il nuovo dino che poi è il mammut lanoso ragazzi giusto per intenderci si potrà andare a sbloccare come vedete tramite un evento speciale quindi sicuramente è da capire un attimo come quando sarà attivato ma comunque ci siamo mercato cenozoico quindi solamente da aspettare e capire quando sarà attivo dopo di che andiamo un attimo qui raga e vediamo se c'è qualche buona occasione di dino no niente come avete visto ragazzi se qualcuno di voi ha aggiornato recentemente sono ritornati punti vip per tutti quindi si potranno andare a prendere pacchetti vip piuttosto che altri vino e quant'altro come vedete punti fedeltà eccoli qui ovviamente per chi sarà vip verranno raddoppiati l'unica differenza tra chi gioca normale chi è vip è solamente questa cosa dopo di che raga hanno fatto delle nuove battaglie io voglio fare subito con voi il combattimento al volo con lui andiamo a farlo veramente al volissimo tanto per farlo vedere non riesco a ammazzarne ne riesco a farne a farne due e a scamparne dopodichè mi delascio ovviamente un po tra l'altro non ho preso nemmeno l'indominus questa volta quindi scurarevi proprio allora lui mi fa due in questi qua non riuscirò forse nemmeno ad ucciderne uno però va bene così ragazzi per farlo vedere guardate quanto è bello il juggernaut 32 mamma mia mamma mia devastante allora forse uno con questo anche devo rispattare ok k o perfetto il secondo ha 13 mila punti vita c'è una roba devastante troppo 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 forte facciamo quattro riserve adesso mi attaccherà ovviamente perfetto che mi fa fuori veramente ok a noi cavolo di otto è l'unica soluzione che ho per pochissimo per pochissimo attenzione si dipende di ok in tre facciamo così tre riprese e una riserva ragazzi vediamo un po come va e ci fa fuori un po via ok attacchiamolo di tutto forse le sto facendo fuori due eh non ho detto in più di due l'altra volta con l'indominus sicuramente era molto tardi ero stanco ne ho fatti fuori solamente uno questo è già il terzo incredibile nientemente vale ok a lui boss di veri tre avrà 20.000 almeno 27.000 ragazzi va bene siamo arrivati al terzo indoccabile in vari luglio va bene questo questo dovrebbe essere un nuovo record sicuramente come vedrete perché gli hanno fatto fuori uno in più 24.000 ok un po di dna che fa sempre comodo ne abbiamo 21.000 perfetto la missione qua secondaria 1.229.000 su 2.500.000 ci vuole ancora un bel po ho messo qui un po di palazzi con un bel po di percentuali in più raga che dire questo qua è veramente il primo video al volo per capire un attimo com'è com'è la nuova come il nuovo mac questo qui è stato introdotto con il nuovo aggiornamento sempre si può ottenere gratis ogni 12 ore un po di dna però bisogna diventare un BIP quello è poco ma sicuro tra l'altro con il BIP avrete il pacchetto misterioso BIP i punti fedeltà sempre raddoppiati fino a 2.000 dollari di dna gratis tramite quel palazzo che avete visto e ovviamente i soliti contenuti esclusivi probabilmente mi andrò ad iscrivere ragazzi perché comunque è veramente veramente tanta roba questo gioco come sapete vi lascio in descrizione e qua nelle ultime secondi video i miei ultimi due video e il logo del canale se ancora non mi siete iscritti ragazzi che dire primo video sul nuovo mac è velocissimo una scheggia quindi ci saranno sicuramente più video e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao